Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora in mia compagnia. Oggi vi presenterò un workout brucia grassi total body 120 ripetizioni. Cosa significa? Significa che io andrò ad effettuare un circuito composto da 120 ripetizioni. Naturalmente non eseguirò sempre un unico esercizio ma andrò a differenziare i vari esercizi. Io farò un circuito quindi composto da 60 ripetizioni e lo ripeterò due volte quindi per arrivare a un totale di 120. L'unico attrezzo che utilizzerò è il catbell. Qui al mio fianco ho esposto tre diversi catbell di consistenza di chili diversi quindi abbiamo da 4 chili, da 6 chili e da 8 chili. Io utilizzerò quello da 4 però voi potete scegliere di utilizzare il carico più adatto al vostro allenamento. Siete pronti? Andiamo pure! Grazie a tutti! 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 di questo allenamento vi consiglio di effettuare qualche minuto di stretching. Ciao e buon allenamento!